La via dei presepi, un modo in più attraverso le vetrine dei negozianti per far conoscere Belluno tanto ai bellunesi come ai turisti. Un'iniziativa promossa insieme da Comune, Diocesi e Ascom. Sicuramente è un simbolo che ci tenevamo particolarmente a mostrare insieme ai commercianti, un'iniziativa che lanciamo con Commercio Ascom e la Diocesi di Belluno-Feltre. Quindi cogliamo questa iniziativa per dare un senso al girare per la nostra città e vedere sia le vetrine e vedere quindi un simbolo che unisce tutti i commercianti e tutta la città nel simbolo del Natale più vero, ovvero il presepe. Un progetto in itinere. Il 2023 è solo una prima volta, una sorta di prova generale, ma con l'intenzione di far crescere la partecipazione, così come dovranno crescere le statue del presepe Ligno al castello e le luci che di sera illuminano il cedro di Piazza dei Martiri. L'idea infatti è quella di arrivare a fare una piccola guida che diventi un percorso cittadino che vada di negozio in negozio da un presepe all'altro. Quest'anno siamo partiti leggermente tardi, per cui non in tutte le vetrine il presepe è esposto, però ci sono più di 50 operatori che hanno aderito all'iniziativa, per cui già si può fare il giro della città e vedere questi bei presepi. È un modo appunto per mettere in luce quello che è l'attività dei nostri negozi e quello che sappiamo fare.